Si chiama Jacqueline Powers e pensate che sarebbe accusata di un gravissimo delitto, di un gravissimo reatto, l'omicidio. In pratica questa donna, madre di famiglia, avrebbe somministrato alla figlia di soli 14 anni di età il fentanil, una sostanza che ha portato la ragazzina di 14 anni alla morte. Infatti ha assunto questo farmaco, la donna è stata accusata giovedì 7 novembre e arrestata il giorno dopo, l'otto, perché avrebbe causato la morte della ragazzina in Missouri a Overland. Voleva, diciamo così, ridurre il dolore ai denti, ma quando ha visto che non aveva alcun effetto, ha preso una pillola di fentanil dal cassetto e gli era data. La ragazzina purtroppo è morta, non ce l'ha fatta, sembra proprio infatti che il fentanil abbia prodotto nella ragazzina di 14 anni la morte. Morì a 14 anni, adesso la donna rischia il carcere a vita o comunque un sacco di anni di reclusione. Si chiama Jacqueline Powers, questo avrebbe fatto. Grazie a tutti, una ragazzina che non c'è più. La donna poteva stare attenta secondo me, certo che sì. Una buona sera da voi. Grazie a tutti.